Cioccolate, cioccolate, cioccolate Allora i veglioni in questa settimana si concretizzano un po' per tutti ma quello dei bambini è forse il più colorito, il più gioioso Beh ormai sono quasi vent'anni che facciamo questo veglione, il venerdì di carnevale, rigorosamente gratuito rigorosamente in collaborazione con la Proloco che ringraziamo per l'ospitalità Facciamo la nostra festa con i bimbi in maschera, getto di dolciumi, merenda, spettacolo con il clown La Dance Academy Studio che si esibisce con i ragazzini e i ragazzi nelle varie danze Faremo anche un bel getto e quindi dai una bella festa Abbiamo anche un angolo con i ragazzi, gli educatori dei centri estivi, del jump Dalle 15.30 bocciofila combattente, google map via Tito Speri o bocciofila combattente se no non ci arrivate Stiamo di posto, ce ne è talmente tanto che più arrivano e più ci divertiamo Quindi lì non c'è problema di posto, forse di parcheggio però di posto dentro ne abbiamo tanto Quindi siamo contenti che vengono mascherati i bambini e soprattutto le mamme Perché i bambini eleggeranno la mamma del carnevale L'unica lezione di miss che è votare sono i bimbi Quindi non è importante essere belle, l'importante è essere simpatiche ai bambini Questa è la cosa a cui teniamo molto